Allora sugli arpeggi abbiamo visto in settimana un buon lavoro, vediamo un intro e poi approfondiamo il discorso, i Dominant, per cui il piangiatore e i Dominant, posso chiaramente utilizzare un tonic minor, e Torian, attenzione, posso benissimo e tranquillamente anche usare, se sono in Mi Dominante, usare gli arpeggi di La Maggiore. Vedi la Sella un minor? 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 infatizzo sempre la 7 minor grazie a tutti